Una serie di iniziative rende omaggio al recente gemellaggio stretto fra l'Aquila e la città di Cento, fra le più importanti una mostra sul Guercino prevista nel maggio del 2016. Nello stesso tempo alcune opere del Museo Nazionale d'Abruzzo saranno in mostra a Cento. Il gemellaggio è stato sottoscritto nell'agosto scorso, durante la settimana della perdonanza. La nostra associazione è stata promotrice di questo gemellaggio tra il Comune dell'Aquila e il Comune di Cento, due città che sono unite non soltanto dalla Comune di Esperienza del Terremoto ma da arte e cultura. Quindi dopo il gemellaggio dell'agosto scorso stiamo preparando questa serie di eventi, il concerto di domenica e la mostra del Guercino all'Aquila, con in contemporanea una mostra delle opere d'arte che erano nel Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila a Cento, quindi uno scambio culturale alla pari, presumibilmente tra maggio e giugno del 2016. In questo momento, assieme all'assessore Capri e alla dottoressa Arbace della sovrintendenza, stiamo lavorando alla location per le due mostre. Quali opere andranno a Cento? Delle opere di arte moderna, la scelta e la definizione sarà compito esclusivo della dottoressa Arbace, vedere quali opere potranno essere materialmente spostate e anche in base alla location. La location a Cento è già stata individuata, si tratta del neorestaurato Palazzo del Governatore, che è il palazzo storico di città, che oltre alla sala consigliare, ospiterà la loro Galleria Nazionale d'Arte Moderna, quindi è la location ideale. Su di noi stiamo lavorando tra Palazzo Fibbioni e un'altra location, perché le tele del Guercino sono di grandi dimensioni.